signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questa settimana video speciale perché possiamo finalmente dire che tutta la questione sulla olg si sia conclusa il risultato probabilmente era già scontato per la maggior parte di noi ma per onostà intellettuale io ho voluto attendere fino a dopo il 3 di febbraio per iniziare a lavorare su questo video perché il 3 si sarebbe concluso il sondaggio aperto su dnd beyond che ha permesso alla community dei giocatori di ruolo o almeno la community dei giocatori di dnd di esprimere direttamente la propria opinione che poi questa opinione sia stata resa in maniera molto più incisiva da tutte le disdette i servizi in abbonamento dell'asbro quello è un altro discorso che non faremo in questo video le ripercussioni per chi come me e immagino la maggior parte di voi e nel mondo del gioco di ruolo come appassionato e soprattutto come fruitore sono state principalmente quelle dal punto di vista morale detta in maniera molto semplice credo che la maggior parte di noi fisicamente possieda già tutti i regolamenti a cui in qualche modo era già interessato quindi se anche domani mattina dnd sparisse dalla faccia del pianeta nessuno lo producesse più e non verranno mai più stampati nuovi manuali nei nuovi regolamenti probabilmente la maggior parte di noi i manuali con cui vuole giocare ce li ha già a casa sua e nessuno verrà mai a casa vostra a portarvi via i manuali di gioco non stiamo parlando di un gioco online non possono spegnere i server di dnd e impedire alla gente di giocarci anzi probabilmente la maggior parte di noi nella sua biblioteca già molti più titoli di quelli che effettivamente riuscirà mai a giocare nel corso di tutta la sua vita anche dovesse mettersi a studiare approfonditamente e fare una campagna per ogni singolo regolamento quindi per noi al di là della pessima figura fatta dall'asbro si è trattato di un nessun danno fatto ma semplicemente un fastidio il fatto però è che il mondo del gioco di ruolo non è fatto solo da noi appassionati esiste tutta un'altra parte del gioco di ruolo cioè chi effettivamente lavora nell'industria del gioco di ruolo che sono tutti i designer i tecnici tutti quelli che scrivono i manuali senza i quali noi non avremmo nulla a cui giocare e queste persone nella maggior parte dei casi e gente che il suo stipendio deriva da queste cose e per cui un cambiamento così grosso è stato davvero un infarto perché ha messo a rischio la loro sicurezza economica non si è trattato semplicemente di un fastidio mi sembrava quindi corretto chiudere la vicenda non tanto dandovi la mia opinione le mie sensazioni in materia che in realtà grosso modo hanno lo stesso valore che possono avere le vostre ma sentire qualcuno che sia all'interno dell'industria per sapere qual è stata la loro reazione vedere qual è stato proprio vedere le cose dall'altro punto di vista fortunatamente mauro longo ha accettato di buttare una settimana dietro questo mio delirio quindi effettivamente questa settimana possiamo parlo e andremo a parlare della ogl 1.1 dal punto di vista di chi è un esperto del settore quindi mauro tu nell'industria ci lavori presentati al pubblico direttamente sì eccomi qua io sono all'interno sono tuffato da da bambino no però diciamo da da una decina d'anni nel nel mondo del gioco di ruolo e anche del libro game come autore alla fine io ho cominciato come tutti da appassionato del del gioco di ruolo del libro game dei giochi in generale fin da quando fin dalla più teneretà che risale allo scorso millennio però dal circa il 2012 2013 ho cominciato a collaborare con le case editrici italiane che non non solo italiane che producono che scrivono che pubblicano giochi di ruolo e libro game e da allora diciamo così sono mi sono mi sono mi sono grappato come la vongola lo scoglio a questo a questo settore adesso è fondamentalmente il mio il mio lavoro quello che mi da mi paga l'affitto mi mi da mi fa pagare le bollette e mi fa pagare i giochi e i libri degli altri fondamentalmente io lavoro con adesso in particolare al 99 per cento con aggeron games e quality games che sono due marchi della stessa realtà editoriale e sono diciamo le case editrici che fa la è la casa editrice che pubblica in italia brancalonia l'ex arcana e abbiamo fatto inferno l'anno scorso e quest'anno stiamo per lanciare apocalisse che è un altro gioco di ruolo che sfrutta il motore di dungeons and dragons quello diciamo di cui che è stato al centro di tutta questa questione di cui parleremo e apocalisse appunto che che parla poi del così come inferno diciamo di mondi estremamente epici dark è un po anche horror se vogliamo e sfrutta appunto il motore della quinta edizione di dungeons and dragons quindi sono stato diciamo molto attento a quello che è successo negli scorsi mesi nelle scorse settimane da questo punto di vista quindi possiamo dire che tu abbia tutte le qualifiche che servono a questo punto allora la prima domanda è qual è stata la vostra reazione come industria a queste tre settimane di fuoco che sono seguite all'annuncio della oigl 1.1 diciamo che quella mattina è stato diciamo siamo stato tempestato di messaggi mentre ancora prendevi il caffè perché la notizia era veramente uno scoop e da parte nostra avrebbe potuto cambiare completamente tutta la tutta la nostra programmazione per tutto l'anno di di uscite di pubblicazioni perché noi facciamo del materiale il 50 per cento di quello che facciamo è un materiale dedicato alla quinta edizione di dungeons and dragons e quindi stavamo per lanciare apocalisse sarebbe dovuto cambiare tutto sarebbe potuto cambiare tutto quindi quella mattina siamo arrivati sconvolti abbiamo cominciato a spulciare noi stessi i leak gli articoli i forum a sentire l'opinionista avvocato che diceva questa cosa no ma non la possono fare l'altro avvocato americano che gli risponde sì invece la possono fare e così via rimpalli continui e questa cosa ci ha tenuto praticamente svegli per le due settimane successive quando si sono rimpallate le dichiarazioni continue di critical role della kobold press alla fine è arrivata la dichiarazione della paizo che era quella che tutti aspettavano perché con più con più timore perché perché come magari tutti quelli che ci sentono ricordano con o sanno quando è stato c'è stata la debacle della quarta edizione di dungeons and dragons paizo con pathfinder ha conquistato il mercato e quindi adesso che questa poteva essere sarebbe potuto essere una nuova debacle un nuovo passo falso c'erano i presupposti perché pathfinder paizo riconquistasse nuovamente il mercato quindi diciamo tutta la situazione era allucinante fluida e noi stavamo lì dalla mattina alla sera a scriverci in chat passarci dei link e capire se questo nostro kickstarter l'avremmo potuto fare oppure no e come saremmo andati a finire da qui a tutto il 2023 aspettando queste licenze che queste decisioni poi è arrivata la prima ritratazione io qui sul canale ci ho fatto un video lo lascio qua in alto nel caso siate appena arrivati da marte e non sappiate di cosa io stia parlando ma è la premessa tutto questo intero video quindi dubito che siate arrivati qui in qui senza vederlo e dopo la ritrattazione il sondaggio online su dnd beyond in cui stranamente la maggior parte dei giocatori in giro per il mondo era d'accordo sul fatto di non volersi fare fregare ora parlando per noi giocatori possiamo dire che questa questa situazione tutto questo in realtà ha proprio causato un senso di sfiducia totale nei confronti dell'asboro volenti o nolenti dnd per il mondo il gioco di ruolo è una delle proprietà intellettuali più importanti e più influenti e l'asboro con un comportamento del genere sembra aver dimostrato di non essere in grado di gestire qualcosa di così importante per il settore senza contare che altre ditte hanno cominciato a proporre altri tipi di licenze pensate con un minimo più di raziocinio a questo punto però la domanda è per voi all'interno e l'industria questo cambiamento cosa ha portato qual è stata la vostra reazione passerete all'orche della paeso passerete a qualcos'altro ancora che vi inventerete quale sarà la conseguenza di tutto questo beh intanto citato degli eventi diciamo epocali perché hai citato diciamo la poll su dnd beyond il sondaggio ma prima c'era stata la raccolta firme se ti ricordi poi c'era stata diciamo la conferenza stampa annullata dieci minuti dopo l'orario in cui sarebbe dovuta partire la conferenza stampa ufficiale tutti elementi che hanno fatto capire che qualcosa non stava andando bene tutte le disiscrizioni da dnd beyond secondo me alla fine arrivo poi alla risposta alla domanda alla fine è stato paradossalmente un grande momento di democrazia scusate il termine improprio parlando di giochi di ruolo di cose molto molto futili però diciamo tutta la community dei giocatori ha tutta la community comunque la minoranza rumorosa dei giocatori ha espresso fortissime opinioni su quello che stava accadendo e queste opinioni hanno fatto cambiare idea c'è poco da dire hanno fatto cambiare idea alla alla wizard dopo dei costi alla asbro che non è non è una cosa immediata cioè non è non era neanche dovuta poi tu mi dici cosa faremo noi adesso adesso in realtà le cose sono talmente cambiate che sono la situazione migliore di quella di partenza perché gli ultimi sviluppi se hai seguito se avete seguito sono che la ogl per come adesso quindi la licenza 1.1 1.2 è stata confermata ab eternum e non può più essere revocata a questo punto ne verrà fatta una prossima per il la prossima iterazione del gioco ma intanto la situazione attuale della srd e della ogl è fissata quindi possiamo in teoria utilizzare dungeons and dragons la quinta edizione la srd per lo meno a nostro piacimento inoltre hanno fatto un passo ulteriore avanti che è ancora più più eclatante secondo me più clamoroso cioè hanno fatto hanno rilasciato tutto il regolamento anche addirittura ulteriormente ampliato della srd in creative commons 4.0 con semplicemente l'attribuzione se non ricordo male il criterio di attribuzione che vuol dire che tutti ci possono fare tutto con questo sistema con queste meccaniche addirittura si possono inserire questi pezzi di regolamento direttamente nei nuovi manuali cioè noi non prima eravamo tenuti in qualche modo a fare riferimento ai tre manuali base di dmd no cioè se noi facciamo il nome fatto uscire brancaloni abbiamo fatto uscire inferno dobbiamo dire dovevamo dire ma era anche una comodità nostra che per giocare brancaloni inferno bisogna avere la srd bisogna avere manuali base di danno sandra con se adesso che tutto in creative commons in realtà noi possiamo inserire interi pezzi dei manuali se non tutto nei nostri manuali è una cosa se ci pensi allo se ci pensate allucinante quindi boh la situazione è cambiata addirittura in meglio rispetto a prima quindi il nostro programma è fino a quando c'è tanta gente al mondo che adora dandons and dragons a cui piace il regolamento di quintalizione eccetera noi continueremo a usarlo per i nostri giochi non per tutti i giochi naturalmente ma per quelli che ci stanno bene con quel regolamento a questo punto però per voi che fate sviluppo la domanda sembrerà banale ma bisogna farla conviene ancora pubblicare per quinta edizione o per le edizioni precedenti e qua parlo anche nel mio interesse personale io non sono tanto un giocatore della quinta edizione io sono un master da 3.x quindi sono più interessato al retro gaming per quello che riguarda dnd e nel campo del retro gaming oltre all'ambiente usr che è già abbastanza solido di per sé ci sono una serie di progetti che interessano la 3.x che tra l'altro nella maggior parte dei casi sono stati sospesi proprio in attesa di quale fosse il destino della olg però dato che abbiamo il designer per voi c'è ancora un incentivo a produrre materiale per la quinta o finiti i progetti che erano già stati iniziati e pubblicati quelli vedremo un abbandono i dnd e magari l'uscita ai nuovi regolamenti magari condivisi tra varie ditte casee di produzione ma guarda noi stessi abbiamo aderito a una iniziativa di nostro partner francese che ha gata studio che pubblica materiale sia per quinta edizione che altre cose è noi come come ti dicevo come hackeron e come quality facciamo sia materiale quinta edizione che anche altre cose il punto fondamentale che noi amiamo comunque ci piace molto la quinta edizione io la adoro io penso che ho adorato la terza anche io ho giocato tantissime 3.0 3.5 3.75 di pathfinder ho giocato a pathfinder 2 anche se ho avuto meno occasioni ma mi piace molto anche quello ma io trovo che la quinta edizione assieme al regolamento basic della rull ciclopedia quindi l'ultima iterazione del basic di randons and dragons siano i due regolamenti più belli di dnb che siano mai usciti quindi io la amo e noi in in agron ci piace molto detto quindi continueremo a fare questi giochi perché il regolamento ci piace ci funziona e per alcune cose per alcuni giochi come inferno come brancalonia come le come apocalisse funziona anche bene quindi non c'è bisogno di inventare la ruota le altri discorsi sono discorsi di licenza la orc non è un regolamento alla fine orc è una licenza noi con questo gruppo ht che vi dicevo prima abbiamo fatto diciamo una un documento di solidarietà reciproca e di scambio di licenze di e di materiale però adesso che tutto è appunto come dicevo in creative commons effettivamente è la community dei giocatori è così affezionata alla quinta edizione di annons and dragons e a noi piace così tanto io credo che noi resteremo su sul classico quindi su sul colosso sul drago sulla sulla quinta edizione di annons and dragons fermo restando diciamo che appunto questi altri regolamenti ci ci piacciono comunque moltissimo htfinder secondo me anche molto bello anzi per certi versi è anche più performante per un certo tipo di stile di gioco poi abbiamo l'ex arcana e quello continua così abbiamo altri progetti che non sono quinta edizione che che sicuramente porteremo avanti questa cosa però è chiudo ci ha fatto venire in testa di provare a fare anche noi a rilasciare delle delle piccole licenze tra virgolette noi siamo pincopallino cioè siamo la caseritrice secondaria di un paese secondario del mondo del mondo del gioco di ruolo però perché no magari possiamo fare il regolamento di l'ex arcana che il dice point system lo possiamo rendere diciamo utilizzabile tutti quelli che vogliono realizzare qualche gioco di quello in quello stile lì oppure stiamo lavorando o 5r che è il nostro old school magari o 5r ne faremo una versione libera free gratuita così tutti lo possono utilizzare comunque diciamo questo discorso del di aprire i regolamenti e le licenze secondo noi è una strada da perseguire quindi noi sfrutteremo quelle degli altri ma al contempo restituiremo qualcosa alla community che di quelli che vogliono creare dei giochi nuovi potranno farlo anche con i nostri regolamenti questo sì parlando al giocatore questo non può sicuramente essere qualcosa di dannoso anzi più regolamenti ci sono più possibilità ci sono per noi master di trovare qualcosa che sia effettivamente adatto a gestire le storie che noi vogliamo portare al tavolo possiamo quindi dire che in linea generale per quanto sia stato un mese abbastanza al cardiopalma per chi è all'interno dell'industria in realtà le cose si sono stranamente risolte nella migliore delle ipotesi anzi sembra che adesso le cose siano migliorate adesso perlomeno l'olg dovrebbe diventare permanente non qualcosa in balia della volontà della paizo come era prima questo lo dico soprattutto per i master più giovani questo genere di cose sono quegli eventi all'interno del mondo del gioco di ruolo che voi tra vent'anni racconterete a quelli che saranno i master giovani e loro vi risponderanno che siete ancora lì a fare quest della quinta edizione sono sistemi superati dovreste innovarvi ovviamente ringrazio mauro longo per essersi fatto intervistare in questo video e ci hai dato anche l'altro punto di vista del discorso ora fila a scrivere nuovi giochi perché noi è quello che vogliamo da te esatto va bene allora intanto di saluto te saluto tutta la community del master cae e magari ci risentiamo prossimamente diciamo quindi che per questo video è tutto dalla prossima settimana torniamo con la programmazione regolare del canale vi avviso che io con mauro stiamo già lavorando un altro video che però vedrete sul suo canale di youtube perché anche lui ha un canale di youtube vi lascio in descrizione il link sia al suo canale sia al suo gruppo facebook dove tratta a questioni di gioco di ruolo orientate anche al game design so che chi di voi c'è qualcuno interessato a queste cose vi lascio i contatti direttamente qui sotto come sempre adesso però la parola sta a voi ditemi come voi avete reagito a quello che è successo quali sono stati i miglioramenti i peggioramenti secondo voi e soprattutto se voi siete stati tra quelli che hanno disdetto le iscrizioni hanno deciso di abbandonare la quinta edizione vediamo un po anche come all'interno della mia community è stata la reazione a questo mese di inferno come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate anche i link del server di disco del gruppo i telegram dove troverete anche il resto della community del master kai io sono il master kai e noi ci vediamo al prossimo video